ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati ringraziamo subito puro che ci ha mandato questa cover per iphone 6 plus in realtà noi abbiamo un iphone 6s plus cover slim eco later vegan later per appunto iphone 6 plus ma ci hanno detto che va bene anche per iphone 6s plus sicuramente la cover è ben realizzata abbiamo dentro questa finitura che permette di non rigare il back del nostro iphone abbiamo come potete vedere i pulsanti qua laterali intagliati in modo che si vadano a pigiare al meglio comunque i pulsanti fisici del nostro iphone e così anche quello per il tasto accensione spegnimento il fondo non è coperto mentre tutto il resto del telefono si andiamo a inserire il nostro dispositivo e ho notato subito abbastanza difficile andare a inserire al meglio il nostro dispositivo all'interno di questa cover tuttavia quello che un po su iphone 6s plus mi fa titubare come potete vedere è il fatto che mi lascia questa leggera questo leggero scalino proprio per il fatto che l'iphone 6s plus è leggermente più grande rispetto invece al al 6 plus e questo è l'unica pecca in realtà che a me dà abbastanza fastidio ma comunque copre abbastanza bene copre bene il dispositivo si va ad inserire i pulsanti funzionano al meglio non avremo nessun tipo di problema dal passare la modalità normale alla modalità vibrazione i pulsanti volume funzionano al meglio il pulsante accessione spegnimento funziona molto bene abbiamo quindi questa pelle in colorazione blu ecopelle devo dire che l'effetto in mano è veramente molto bello l'ho utilizzata circa sei giorni questa cover non se neanche minimamente graffiata quindi assolutamente una buona resistenza permette di scattare foto con flash tranquillamente senza andare a rovinare le foto e lascia liberi tutti gli accessi ai nostri all'ingresso lightning e al jack per le cuffie oltre che ovviamente allo speaker questa cover mi è piaciuta molto tuttavia non sono riuscito a tenerla sul mio iphone proprio per questo effetto scalino che mi fa sulla back che non mi fa impazzire la consiglio a chi sta cercando una cover in semi pelle in pelle con effetto pelle comunque molto resistente che comunque costi poco e non 80 euro come quella di originale di apple quindi assolutamente un'ottima cover ringrazio ancora puro fatemi sapere se l'avete già acquistato se l'acquisterete ciao a tutti ragazzi da daniele per spazio high tech